Buongiorno a tutti ragazzi, sono il Franz, siete su NBA Revazon, il miglior canale NBA di casa mia. Come sapete stiamo andando avanti con le reaction. Nel sondaggio di ieri, nella sezione community di YouTube, la partita che ha vinto è stata Dallas Mavs contro Utah Jazz. Come sapete io non so ancora risultato, non ho visto nulla, non so nulla. Se siete pronti ragazzi, io e il mio caffè siamo qua e insieme ci possiamo guardare gli highlights di questa partita della notte. e magari commentarli insieme. Se siete pronti, comincerei ora. Eccoci. Eccoci qua ragazzi, è cominciata la partita. Subito grandissima circolazione degli Utah Jazz e tripla di Mike Conley. Questi Utah Jazz ragazzi stanno stupendo tutti. Io li avevo pronosticati tra le prime quattro ad ovest, non avrei mai immaginato che potessero essere addirittura primi ad ovest in questo preciso istante. Non so il risultato di questa partita, so solo che, almeno da quello che vedo e dalle news che sono filtrate ieri, manca Donovan Mitchell. Non c'è Donovan Mitchell, ma comunque c'è un gioco che funziona e pare funzionare in questo inizio di partita anche senza Donovan Mitchell. Joe Ingolson Fire, ragazzi, il facilitatore per eccellenza. In più il tanto bistrattato contrattone di Gobert al momento, sembra non pesare più di tanto, visto che Gobert in questo momento è il ministro della difesa degli Utah Jazz. e non sta nemmeno penalizzando troppo in attacco, mentre anche Clarkson mette la tripla. Utah Jazz, ragazzi, hanno iniziato fortissimo questa partita. 23 a 9. In questo momento è la squadra che gira meglio di tutta l'NBA. In più, ragazzi, Bogdanovic, che ricordiamoci, non c'era nella bolla. Madonna mia, ragazzi, dobbiamo ancora vedere un Highlights di Dallas. Mamma mia, Utah Jazz sul più 20 nel primo periodo. Mamma mia, ragazzi, ma che cosa stiamo vedendo? 34 a 11. Sì, via, beneficiata. Pazzesco, ragazzi. Finalmente batte un colpo Dallas con Trey Burke. Speriamo che riesca a rimontare, almeno per lo spettacolo di questa reaction, ragazzi. Più 25 dopo il primo quarto non è proprio un ottimo segnale per i Mavs. E a questo punto, attenzione, perché i Mavs sono ben sotto il 50%. Ragazzi, Utah non scherza. Utah non scherza. E mentre l'unicorno, con la sua mano fatata, ma, ragazzi, siamo quasi a più 30 Utah. Pure di destro con lei. Oh, finalmente una palla persa da Ingles. Ancora non si è visto Doncic, non si è visto nulla di Luca Doncic. C'è Jalen Branson, che i più paragonano a un nuovo Derek Fischer. Eccolo qua, il gioco sul piede perno di Doncic. Riallarga. Fini Smith. I Mavs sembrano finalmente battere un colpo. Primo canestro per Luca Doncic. Secondo canestro per Luca Doncic. Più 18 Utah. Comunque, dicevamo, i Dallas Mavs sono partiti con delle aspettative incredibili. Alcuni li davano addirittura vicini alle parti alte della classifica NBA, nei power ranking, eccetera. Francamente stanno stupendo in modo negativo. È una squadra che non difende, difende molto male. E poi, storicamente, le squadre che dipendono così tanto da un giocatore non riescono ad andare così lontano, a meno che il giocatore non sia LeBron James. Mentre Doncic si prende gioco di Gobert e siamo a meno 13. Abbiamo perlomeno una parvenza di partita, mentre Gobert e il suo contratto Che movimento di Conley. Ricordiamoci tutti Cosa è stato, cos'è Batum quest'anno? Oh, intanto, si chiude il primo tempo sul più 16 Utah. Ricordiamoci tutti cos'è Batum quest'anno per i Los Angeles Clippers Perché faremo lo stesso discorso, ragazzi, con Mike Conley l'anno prossimo Perché finalmente il suo contratto spropositato scade Chiunque riuscirà a firmarlo a cifre più umane Farà un affarone l'anno prossimo Ma veramente un affarone Credo che la partita sia abbastanza andata Già dopo il primo quarto Comunque vediamo un po' che cosa succede Altro bel movimento di Doncic Che legge ottimamente la difesa Ancora Finney Smith dall'angolo Ma siamo a più 22 per Utah La vittoria numero 11 consecutiva è molto molto vicina Nonostante l'assenza di Donovan Mitchell Io ricordo a tutti che c'è una scommessa pendente Su un'ipotetica finale NBA tra Jazz e Brooklyn Nets Mentre Clarkson ormai qualcuno direbbe Vede il canestro come una vasca da bagno Siamo vicini al più 30 Comunque c'è una scommessa in atto Tra me e i miei ascoltatori su Twitch Se la finale NBA dovesse essere Utah Jazz Contro Brooklyn Nets Devo tatuarmi qualcosa di relativo A queste due squadre sul mio corpo Io non ho tatuaggi e non ho intenzione di farne Ma una scommessa è una scommessa Quindi per favore Utah comincia a perdere Altro bel canestro di Doncic Una partita ormai che è andata a farsi benedire Come si dice in America La cicciona ha cantato The Fat Lady Ormai Difficile che i Mavs possano recuperare In un quarto da meno 30 E niente Ci è andata male a livello di Risultato di questa partita Ma finalmente abbiamo visto gli Utah Jazz E devo dire ragazzi che Hanno impressionato parecchio Sono molto curiosi di vedere il box score A fine partita Perché Cioè 94 punti A fine del terzo periodo Voglio capire le percentuali Voglio vedere un attimo Come è andata Come si è sviluppata questa partita Perché Già era chiusa dopo il primo quarto Dallas Mavs che sono evidentemente sotto un treno Soprattutto da un punto di vista mentale In questo momento E la loro difesa Facola tutte le parti Si pensava che potessero aver risolto Parte dei problemi con Josh Richardson E con James Johnson Ma Ragazzi Siamo molto molto distanti Dall'essere Una contender Mentre Utah si è fermata Utah si è fermata E Dallas è tornata a meno 15 Sì vabbè dai Cos'è ma Ah ok Ho sbagliato Cos'era Un doppio step back Lo step del step back Incredibile Comunque Clarkson È l'ennesimo prodotto Di quel core Lakers Degli ultimi anni Di Kobe Mentre anche Gobert Col Circus Shot Insieme a Randall Insieme a DiAngelo Russell Insieme a Ingram Che è uscito da LA Ha finalmente trovato Il proprio ambiente Direi Mentre rientra il quintetto Titolare di Utah E si torna sul più 20 Allora Considerazione Visto che ormai è finita La partita Già da mo Gli Utah Jazz Sono una realtà Una realtà notevole Sono all'undicesima Vittoria consecutiva Con Bogdanovic Probabilmente anche l'anno scorso Nella bolla Almeno il primo turno L'avrebbero superato Vediamo un attimo Il box score Perché Possiamo ragionare Insieme su alcune statistiche Infatti Bogdanovic 32 punti Gobert 17-12 Ennesima Ottima partita 22 9 assist di Conley 10 Joe Ingles 12 Morgan 18 Jordan Clarkson Dalla panchina E al momento Jordan Clarkson È chiaramente Il sesto uomo dell'anno Almeno secondo me Ma credo Secondo molti Queste le statistiche Dei Mavs 25-6-7 Di Donchich Ma meno 27 Di plus minus 11 Finismith 11 Porzingis Malissimo 10 Di James Johnson 13 Di Branson Però Per lo più In garbage time Ragazzi Torniamo Per un secondo Grandi Eccoci qua Che dire Non ci è andata Benissimo Questa partita Pensavo Che con l'assenza Di Donovan Mitchell Sinceramente I Mavs Potessero avere Più di qualche Possibilità Per vincerla Hanno Straperso Già Dopo il primo Periodo Più 20 Utah Utah Jazz Che In questo Preciso istante Sono primi Ad ovest Meritatamente Il contratto Di Gobert Evidentemente Non era E non è stato Così folle Come Praticamente Tutti Abbiamo Abbiamo Detto E Vedremo Se gli Utah Jazz Saranno in grado Di Avere questa Costanza Per tutta La stagione Certo è Che Ora come Ora Sono La squadra Migliore Che io abbia visto All'interno Di queste Reaction Sicuramente Ma Probabilmente All'interno Della NBA Quella Con più Certezze Lato Mavs Male 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 Donchic Frustrato In un paio di occasioni Si è visto Che se la prendeva Con i compagni Con il mondo Devono un attimo Riunire I pezzettini Perché in questo momento Sono una squadra Che fa Acqua Da tutte le parti Che imbarca Acqua Da tutte le parti Detto questo Ho terminato La reaction Vi ricordo Come sempre Che Nella sezione Community Di Youtube Ci sarà Un sondaggio Per scegliere La partita di domani Come sapete Anche le opzioni Da mettere Possibili Massime Per la community Youtube Sono 5 Per cui Le 5 partite Le scelgo io E Poi Dovreste votare Potete votare Solamente Tra quelle 5 Giovani Direi Che anche per questa mattina È tutto Io mi finisco il caffè Tempo di Mettere questo video Su Premiere Montarlo E Caricarlo su Youtube Ed è tutto vostro Ragazzi È stato un piacere Un saluto Il Franz Di Sì 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 Grazie a tutti